Sì, pronto? Pronto mamma, mi senti? Sì, ci sei, ah sei tu? Senti, a cosa è legata la scelta del mio nome? Eeeh, per rinnovare... In realtà abbiamo rinnovato il nonno. Ho capito. La cosa più folle che hai fatto per amore, l'hai fatta per papà o per un altro? Per un altro. Ah, va bene. Poi... Bravo. Poi, hai bevuto più di un fidanzato contemporaneamente? Contemporaneamente no. Mai capitato. Va bene. Probabilmente qualcosa l'ho fatta, ma ero giovane. Però sicuramente ero ragazza, quindi, capito? Va bene, ok. Quindi è stato prima, insomma. Capito? Va bene. Prima di sposarmi, insomma. Sì, va a disposare. Rappé!